Tra gli album più attesi di questo marzo 2013, vi è certamente il nuovo progetto discografico dei Bon Jovi, dal titolo What About Now, in vendita proprio da oggi nei negozi di tutto il mondo, e anticipato dal singolo presentato a gennaio anche in Italia, Because We Can. La band del New Jersey torna dopo tre anni di assenza con un progetto musicale ricco di messaggi e impegno anche a livello sociale, che diffonderà ai suoi fan di tutto il mondo grazie anche ad un maxi tour mondiale, intitolato emblematicamente proprio Because We Can The Tour. Iniziato a febbraio in California, e che vedrà il gruppo esibirsi il 29 giugno anche in Italia, a Milano. La rock star John Bon Jovi e la sua band ispirano infatti i loro testi alla grave crisi economica che sta affliggendo in questo periodo i paesi di tutto il mondo, costretti a vivere un periodo storico davvero tormentato. Un altro emozionante esempio questo di come la musica possa essere vicina ed utile all'uomo anche nei momenti più difficili.